Lui è un nigeriano di 32 anni, senza fissa dimora e pluri pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio. Sono le tre e mezza quando il gestore di un bar di Viale San Lazzaro a Vicenza segnala una rissa tra tre persone. Dei tre però la polizia, quando accorre sul posto, trova solo il 32enne nigeriano che, all'interno del bar, si mostra con una grossa uscita di sangue dal naso e alterato dall'alcol. Quando gli agenti gli chiedono i documenti, reagisce in modo aggressivo e agita le mani coperte di sangue. Poi, con un balzo, sputa più volte i poliziotti colpendone uno in piena faccia. Un comportamento violento che non si ferma, costringendo gli agenti a usare il taser. Immobilizzato, lo straniero è stato portato in ambulanza all'ospedale per fermare il sanguinamento dal naso, mentre il poliziotto, colpito con lo sputo da saliva e sangue, è stato sottoposto a profilassi. Infine, il pluri pregiudicato nigeriano è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.